Continua senza sosta il viaggio intrapreso da Sicilia TV, volto alla scoperta e valorizzazione delle eccellenze territoriali. Oggi sconviniamo nell'affascinante e misterioso mondo delle scienze naturali e lo facciamo, parlandovi della lieta storia di un geologo che da Favara, per raggiungere le soddisfazioni professionali con sacrifici e forza di volontà, ha dovuto lasciare la sua terra, un destino purtroppo comune a tanti giovani italiani. Lui si chiama Epifanio Vaccaro, ha 38 anni. Dopo il diploma di geometra conseguito all'Istituto Brunelleschi di Agrigento, decide di iscriversi alla Facoltà di Geologia dell'Università di Palermo. È tra gli angusti corridoi della sede universitaria di Corso Tuguri che il giovane Epifanio matura la passione per i meteoriti. Nel 2005 il giovane Favarese corona il sogno della laurea specialistica in vulcanologia e petrografia. Come da tradizione, Favarese, in occasione della festa di lato, Epifanio suggerisce a amici e parenti di regalare denaro in busta. Soldi che al neodottore in geologia sarebbero serviti per il viaggio che col seno di poi si è rilevato fondamentale per la sua crescita professionale. Grazie ai 600 euro raccolti, Epifanio vola in Inghilterra e si trasferisce a Londra. Dalla calda Sicilia alla frenetica capitale inglese l'impatto deve essere stato forte per il giovane geologo che è andato ad abitare in un piccolo appartamento con 10 ragazzi e un solo bagno. Epifanio, come prima occupazione, trova un posto da aiuto cuoco in un ristorante italiano di Londra. Oltre 10 ore di duro lavoro in cucina, 7 giorni su 7. Ma la voglia di crescere, imparare e far bene era tanta. Durante le ore di pausa lavorativa Epifanio frequentava anche dei corsi di lingua inglese. Dopo 7 mesi passati tra i fornelli, viene assunto da una catena di caffetterie londinesi e solo dopo 4 mesi di servizio diventa un manager. In quel periodo il dottor Vaccaro frequenta un corso sulle analisi minerologiche con l'utilizzo del microscopio elettronico a scansione SEM presso il Museo di Storia Naturale di Londra, dove dopo l'esperienza didattica resta a fare il volontario in un laboratorio di analisi dei minerali. Le ricerche del giovane siciliano erano rivolte ai meteoriti e il suo impegno è stato riconosciuto dall'istituzione londinese che gli ha offerto il posto a tempo determinato di curatore della collazione di rocce terrestri e minerali del museo. Scaduto il contratto per Epifanio Vaccaro, si aprono due strade, quella di un corso di formazione sulla nascita di stelle e pianeti organizzato dall'Università di Copenhagen e quella di una specializzazione in scienze planetarie promossa dallo stesso museo londinese in collaborazione con la Open University. Epifanio sceglie di restare nella città che lo ha accolto e inizia ad analizzare meteoriti primitivi che la NASA ha messo a disposizione del progetto inglese. In sintesi analizza la materia dei meteoriti che hanno originato la nascita del pianeta Terra e del sistema solare. I dati dei suoi studi sono stati presentati nello scorso mese di settembre in occasione del settantasettesimo meeting of the Meteorical Society di Casablanca. In Marocco il geologo Vaccaro ha conosciuto alcuni responsabili dell'OJAXA, The Japan Aerospace Exploration Agency, che per il prossimo 5 dicembre lo ha invitato al secondo simposio sulla materia del sistema solare che si svolge a Sagamiara vicino Tokyo. Nel paese del sollevante le teorie del ricercatore favarese saranno ascoltate anche dai tecnici della NASA. C'è da dire comunque che il Giappone era già entrato nel destino del professor Vaccaro, ha recentemente sposato una ricercatrice originaria proprio dell'isola nipponica. A dottor Epifanio Vaccaro, orgoglio favarese, vanno le congratulazioni dall'intero staff di Sicilia TV.